Un saluto a tutti i telespettatori di Città Celeste TV. È terminato l'allenamento mattutino che per la Lazio è significato effettuare la rifinitura in vista dell'ultima amichevole di questa rassegna estiva sotto le tre cime di Lavaredo, ovvero contro l'NK Primorie. Un amichevole che sarà importante per testare i progressi della squadra ovviamente sul campo e in partita. In base a quello che abbiamo visto stamattino ovviamente non c'era Raul Moro, non c'era neanche Acerbi, è tornato Khin e si è rivisto solamente nel finale per un lavoro differenziato ACPAC Pro. Stavamo dicendo appunto in base a quello che abbiamo visto durante le prove tattiche con ogni probabilità nel 4-3-3 di Mister Sarri vedremo ancora Maximiano tra i pali. Davanti a lui da destra verso sinistra Lazzari, Gila, Romagnoli e Marusic completeranno il quartetto difensivo. A centrocampo scalpita per tornare dal primo Cataldi in mezzo a Milinkovic c'è Luis Alberto nonostante anche Basic recrimini una maglia dal primo. Infine lì davanti insomma in vantaggio ancora Felipe Anderson e Pedro ovviamente su Zaccagni e Romero con davanti Ciro Immobile.